che stanno aprendo un sacco di finestre ok ciao elenia come stai bene dai tutto sommato bene c'è chi sta peggio quindi direi che in questa situazione mi sento abbastanza fortunata perché sono in salute sì dai e come come stai passando questi giorni ma li sto passando allora io facendo ufficio stampa ho la fortuna di fare un tipo di lavoro che è facilmente convertibile smart working quindi non ho avuto diciamo i problemi che hanno avuto un sacco di altre persone e che sta subendo anche un po mare cioè quello della della chiusura della sospensione chiaramente però lavorando come ufficio stampa per gli spettacoli per la musica è chiaro che i miei interlocutori stanno subendo questo questo tipo di problema e quindi diciamo che è una situazione difficile anche così ecco un po un po per tutti tu come stai bene bene grazie me lo sto passando bene sto facendo delle cose che che non sono mai riuscito a fare nel periodo da fuori quarantena tu sei riuscita a fare qualcosa di diverso rispetto a qualcosa allora di diverso in realtà no sono riuscita a recuperare un po di cose che che amo e che per insomma per mancanza di tempo con il lavoro non non ero più riuscita a fare come banalmente leggere come giocare videogiochi sono molto allora in questo momento io sono molto una nintendara quindi ho scaricato per l'intendo switch il le i tre capitoli di di spyro il draghetto quello per play switch che sono stati rimasterizzati e poi per nintendo sta giocando in questo momento animal crossing che ha un titolo molto forte e diciamo che è un gioco di simulazione in cui tu sei un personaggio ci sono degli abitanti nel tuo villaggio eccetera eccetera devi fare determinate cose ed è una sorta di oasis pensierate in cui non c'è nessun problema quindi diciamo è totalmente opposta a quella che stiamo vivendo diciamo che un po' un po' vedi un po' la normalità esatto esatto un buon modo per evadere bene dai e detto questo lavorando chiaramente cioè diciamo che ti occupa molto le tue giornate sì e in prospettiva di una normalità che adesso chiaramente non stiamo vivendo perché siamo in chiusi in casa non possiamo vederci non possiamo toccarci eccetera eccetera tu in una prospettiva di una fine di tutto ciò come vedi una nuova prospettiva di vita sia in ambito lavorativo sia in ambito relazionale sono sono devo dirti la verità sono molto spaventata perché io sto facendo la quarantena in solitudine da sola e non mi ero mai trovata a dover passare tutto questo tempo costretta diciamo a non vedere le facce degli altri fuorché appunto i momenti in cui si va a fare la spesa le ore d'aria in cui si va a fare la spesa e la mia paura è che sto da una parte soffrendo questa cosa ma ho paura di abituarmi ci cioè ho paura che nel momento in cui diciamo sarà possibile poi rientrare nel mondo avrò difficoltà a reintegrarmi cioè a ad avere a che fare con gli altri così come riuscivo ad avere a che fare prima sono abituata mi sono un po' abituata ad avere un rapporto ma proprio anche di spazialità solo con con me stessa quindi ho paura di questo poi penso anche che funzionerà un po come la bicicletta che anche se non la usi per tanto tempo quando quando la riprendi se sapevi andarci diciamo che ricominci a saperci andare senza nessun problema e quindi questa sì questa è la mia paura e soprattutto la la cosa che mi spaventa di più è che in questo momento è vero che stiamo combattendo tutti con fronte comune no e e quindi in situazioni come ci sono state tipo cantare sui balconi eccetera si sente molto l'unità e la l'empatica si empatizza molto con l'altro però allo stesso tempo mi accorgo che il vicino con cui empatizzo sul balcone un momento prima il momento dopo quando scendo in strada per andare alla spesa può essere una minaccia quindi può essere un potenziale nemico no e questo è un brutto modo di pensare e mi mi chiedo quando potremo cominciare a non avere più questo questo tipo di pensiero si sta vedendo appunto anche si sta sviluppando un una sorta di caccia all'uomo di di quelli che denunciano le persone che vanno in giro senza mascherina cioè sta uscendo fuori anche una parte allo stesso tempo molto bella molto solidale e molto commovente ma anche molto pericolosa di noi è questo che che un po mi mi spaventa poi vabbè senza senza pensare a i danni economici che ci saranno però penso che insomma la storia dell'uomo è fatto di alti e bassi di continuo quindi si tratterà soltanto di capire quanto sarà lunga la coda di questo di questo problema però poi sicuramente ci si rimetterà in piedi beh diciamo che penso che sia una questione difficile per tutti la uno stare in solitario l'essere bloccati da non potrebbe poter vedere le altre persone e quindi chiaramente oggi viviamo in una in un tempo molto fortunato che ci permette di videochiamare di atto con le altre persone per fortuna perché se la situazione forse è successa anche solo 20 anni fa metti 15 anni fa la gestione delle videochiamate di della internet dell'informazione del dell'intrattenimento web non esisterebbe totalmente quindi le dinamiche credo della nostra vita sarebbero state molto diverse rispetto ad oggi anche per la per la questione della 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 solidarietà è tutto un venirsi incontro forse non credi c'è il fatto che adesso si aiuta il vicino però allo stesso tempo il vicino che scende di casa non sa in corso di non poter non doverlo fare quindi è tutto un venirsi incontro secondo me e se io ti dovessi chiedere se domani ti avessero detto che avresti passato un mese intero in casa quale sarebbe l'ultima cosa che avresti fatto prima di rinchiuderti cavolo questa domanda è difficile beh avrei fatto sarei andata a un concerto sarei andata al cinema contemporaneamente questo e sarei andata al parco a fare un picnic e a godermi la bella stagione la mia stagione preferita la primavera che che ci stiamo totalmente perdendo e poi avrei fatto un sacco di scorta di libri per esempio che che adesso non mi sento neanche troppo di mettermi lì ad ordinare su amazon eccetera perché so che dall'altra parte c'è chi fa questo tipo di lavoro e rischia e non essendo un bene di prima necessità non mi dispiace anche no è lo stesso ragionamento che ho fatto anch'io si capito c'è l'unica cosa che ho ordinato l'altro giorno e quello era davvero di prima necessità mi si era rotto il caricabatterie del telefono e se non mi si carica più il telefono quella si è davvero quindi quella l'ho ordinata su amazon e devo dire tra l'altro che sono stati efficientissimi l'ho ordinato su il giorno prima il pomeriggio prima mi è arrivato la mattina dopo quindi super veloci però appunto avrei fatto scorta avrei fatto un po di scorta di quelli che sono considerati che non sono considerati bene di prima necessità ma che in realtà sono ugualmente importanti cioè perché non si vive solo di cibo ecco diciamo o di carta igienica e tu sei da solo? no io sono con degli amici sono qua in casa ma in realtà sono molto spesso in compagnia quindi le giornate diciamo che trascorrono trascorrono abbastanza velocemente vediamo la diciamo che tu mi hai detto che comunque lavorando nell'ufficio stampa anche a livello musicale l'ultima cosa che avresti fatto sarebbe stata andare a un concerto se ipoteticamente avessi dovuto andare a un concerto di qualsiasi artista a quale concerto saresti andata? purca ma anche ipotetico così cioè nel senso nel mondo delle idee oppure un concerto che effettivamente c'era? cioè un concerto che un ipotetico no dai facciamo entrambi nel senso per vedere un po' realmente cosa è saltato e cosa invece sarebbe stato un tuo sogno in prospettiva di questa quarantena diciamo? in realtà allora sei andata a vedere volentieri Francesco De Gregori che doveva suonare a Milano e mi sarebbe molto piaciuto quello e poi c'è il concerto ancora non si sa se sono annullati o meno sarebbero a fine maggio ci sono concerti dei Kraftwerk a cui mi piacerebbe molto andare perché sono delle leggende e mi piacciono un sacco non le ho mai visti e fanno parte di quella diciamo della vecchia guardia storica che chissà quanto tempo ancora adesso senza mandargliela però chissà quanto tempo ancora avrò la possibilità di poter andare a vedere quindi questo sì onestamente non so quando potremmo ricominciare a far festa con la musica o meno però benedetta sia la tecnologia davvero perché ho visto cioè la gente si sta inventando di tutto i party via via Skype piuttosto che insomma ho visto dei compleanni che sono stati festeggiati così quindi abbiamo abbiamo una forza incredibile siamo siamo davvero non perdiamo mai la nostra capacità di adattare l'ambiente a noi ci adattiamo però lo adattiamo anche e questo è bello e invece parlando tu comunque vivi attivamente la realtà di mare perché comunque ci permetti alla gente di vederci di conoscerci e cosa ti manca di più del luogo dell'entità lavorativa del tuo comunque lavorare sulla nostra entità beh mi manca tutto perché mare è un impegno quotidiano il calendario di mare il calendario musicale di mare che è quello di cui nello specifico mi occupo è un calendario sempre fittissimo fittissimo e fichissimo se mi passi il termine perché voi davvero date spazio alle realtà emergenti più interessanti anche per esempio il progetto di voce di periferia è un progetto super interessante che lavora sia sulla reintegrazione di certe realtà che magari rischiano un po' di perdersi per strada sia effettivamente sulla dimensione sulla crescita artistica di questi ragazzi giovani che magari hanno del talento a cui viene data la possibilità di esibirsi su un palco e con un pubblico e di crescere in questo modo quindi siccome tornando al discorso di prima quello che mi manca di mare è avere l'impegno quotidiano di seguire e promuovere tutti i vostri eventi che sono super super incredibili poi il mare è una realtà davvero bellissima è una piccola oasi un po' tipo quella di Animal Crossing dove succedono solo cose belle succedono solo cose belle ma dalla pizza e dalla cucina che è buonissima ai laboratori alla musica è fantastico è un punto di riferimento incredibile cosa? è un piccolo mondo magico diciamo esatto è vero è vero ma poi è bellissimo anche come ambiente cioè io ogni volta che vengo a mare ho una serenità mi dà serenità a quel posto e spero che insomma si riesca a riaprire sicuramente facciamo un festone quando si riapre quello non appena sarà concesso anche se credo che organizziamo già esatto esatto e quindi insomma mi auguro che la realtà di mare come insomma tutte tutte le altre realtà che stanno in questo momento soffrendo proprio la chiusura possano possono riuscire a riprendersi a rimettersi in pista al meglio sono sicuro che passerà più o meno tempo però riusciremo a tornare all'umanità riusciremo a tornare ai concerti alle feste a poter ballare e a fare ascoltare la musica anche dal vivo esatto e lo apprezzeremo di più almeno almeno in prima battuta lo apprezzeremo di più poi tendiamo un po' a scordarci di quello che ci pareva di aver perso però sicuramente appena potremo tornare a fare esatto sarà una grande festa va bene ti ringrazio tantissimo della chiamata della chiacchierata e ci sentiamo presto assolutamente sì grazie a questa tecnologia sì grazie mille grazie buona giornata ciao ciao ciao